Carissimi amici, troviamo stavolta un Fiorello abbastanza abbacchiato, abbastanza abbattuto, deluso, distrutto per quanto accaduto dal Festival di Sanremo, dove si è mostrato proprio nero, nero che più nero non si... cioè arrabbiatissimo, perché nella puntata di Viva Rai 2 è successo qualcosa di abbastanza grave. Una cosa è certa, il suo amico Amadeus stavolta non c'entra assolutamente nulla. Ecco i fatti. Fiorello annuncia in anteprima che a Viva Rai 2 avrebbe svelato in anteprima i duetti di Sanremo 2023, che si terranno il 10 febbraio. Ma qualcuno lo ha bruciato sul tempo e la lista è stata spoilerata prima della sua trasmissione. Una cosa che Fiorello non è riuscito a digerire e qualcuno commenta su Twitter, ciuri n e r i s s i m o con i giornalisti che hanno spoilerato i duetti di Cancelletto Sanremo 2023, Cancelletto Viva Rai 2. Infatti, la puntata di Viva Rai 2 inizia con Fiorello quasi disperato e deluso che vaga per via Asiago mostrando il video che Amadeus e Gianni Morandi avevano appositamente preparato per lui dove raccontano appunto dei duetti. Fabrizio Biggio commenta, sta distrutto, avevamo lo scopone e ce l'hanno distrutto. Ancora una volta il mitico Fiore dà prova della sua bravura e trasforma il mancato scoop in uno show ironico e divertente. E si prende la sua rivincita, lanciando un'altra esclusiva su Sanremo 2023. Infatti, annuncia l'arrivo di una super ospite, dando quest'indizio, indizio di Fiorello, a Cancelletto Sanremo 2023 ci sarà un ospite internazionale donna e di origine italiana. Non è Lady Gaga, Amadeus dovrebbe rivelare il nome a Cancelletto Dominican. L'enigma è stato pronunciato, adesso c'è tempo fino a domenica per capire di chi si tratta. I fan di Fiorello sono tutti con lui e si scatenano sui social. Comunque possiamo dire, chapeau, a Fiorello. Anche la, fregatura, dei duetti spoilerati dai giornalisti, a modo suo, l'ha resa iconica. Lui è sempre una spanna sopra a chiunque, è così. Poi ci si lancia nell'indovinare l'identità dell'ospite annunciato ma non svelato. E qui l'annuncio di un ospite internazionale di origine italiana. Se è Carla Bruni, Amadee e io licenzierei in tronco i giornalisti che spoilerano. Se non è Carla Bruni che è nei duetti, chi sarà la cantante internazionale misteriosa? Intanto sui social arriva una pioggia di complimenti per Fiorello e la squadra di Viva Rai 2. Sul profilo Instagram dello showman scrivono, sei un grande fiore. Io ogni mattina quando guardò la diretta prima della diretta mi chiedo sempre come mai hai scelto quest'ora per fare una trasmissione. Ogni mattina. E ancora, buongiorno mio unico grande fiore. Io vorrei tutte le mattine svegliarmi con le vostre voci. Veramente, meglio che con altre voci o pensieri. Grazie Fiore. Io non me le ricordo più le mattine senza Fiore. I risvegli preparando i miei figli per la scuola punto che fanno colazione tra risate e canzoni. Grazie Fiore. Queste dirette sono troppo forti tanto quanto il programma Viva Rai 2. Secondo le indiscrezioni emerse, questi dovrebbero essere i duetti nella serata del festival del 10 febbraio. Si attende la conferma di Amadeus. Noemi e Mara Sattei, Tananai e Don Gio, Gianluca Grignani e Piero Pelù, Olli e Lorella Cuccarini, Rosa Chemicole Rose Villan, Icola Zio e Dito nella Piaga, Imoda e le Vibrazioni, Leo Gasman ed Edoardo Bennato, Gianmaria e Manuel Agnelli, Setu e BNKR44, Luca D'Alessio e Alex Britti.